Un bazar di articoli di lusso rubati, un arsenale è stato scoperto nell'abitazione di una famiglia di Pino Torinese su cui i carabinieri indagavano per un sospetto traffico di marijuana. In manette sono finite una donna di 45 anni e il padre di 76 ritenuti custodi delle armi, una pistola semi-automatica, tre revolver, una scaccia cani che saranno inviate al RIS di Parma per verificarne l'utilizzo in episodi delittuosi. In casa i carabinieri hanno anche scoperto 44 borse di pregio, orologi, cartier, Rolex, gioielli, pietre preziose per un valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Si ritiene che la merce sia rubata e per questo motivo padre e figlia sono stati denunciati anche per ricettazione. Il fratello della donna, 41 anni, è stato denunciato per il possesso di 20 grammi di marijuana. La merce è stata sequestrata, la donna collocata ai domiciliari.